Coco Chanel Alcune persone pensano che il lusso sia l'opposto della povertà. Non lo è. È l'opposto della volgarità. La moda riflette sempre i tempi in cui vive, anche se, quando i tempi sono banali, preferiamo dimenticarlo. Un uomo può indossare ciò che vuole. Resterà sempre un accessorio della donna. La bellezza serve a noi donne per essere amate dagli uomini, la stupidità per amare gli uomini. Se sei nato senza ali, non fare mai nulla per impedire loro di crescere. Di quante preoccupazioni ci si libera quando si decide non di essere qualcosa, bensì qualcuno. È l'accessorio di moda basilare, indimenticabile, non visto, quello che preannuncia il tuo arrivo e prolunga la tua partenza. Innovazione Una persona può essere sempre innovativa. Io voglio creare classici. La ragione per scegliere i diamanti è che, densi come sono, rappresentano il più grande valore nel più piccolo volume. Il successo viene spesso raggiunto da coloro che non sanno che il fallimento è inevitabile. Nessun uomo ti farà sentire protetta e al sicuro come un cappotto di cashmere e un paio di occhiali neri. È così che si muore. La natura ti dà la faccia che hai a vent'anni. È compito tuo meritarti quella che avrai a cinquant'anni. Non sei mai troppo ricche né troppo magre. Una donna ha l'età che merita. C'è un momento per lavorare e uno per amare. Il che non lascia altro tempo a disposizione. La forza si costruisce sui fallimenti, non sui propri successi. Ciò che mi ha reso forte è stato nuotare sempre controcorrente. Per essere insostituibili bisogna essere unici. Il lusso è una necessità che inizia quando la necessità finisce. Pentiti sensatamente. Non mi pento di nulla nella mia vita, eccetto di quello che non ho fatto. Se hai capito che gli uomini sono dei bambini, allora hai capito tutto nella vita. Gli unici occhi belli sono quelli che vi guardano con tenerezza. Ho inventato la mia vita, dando per scontato che tutto ciò che non mi sarebbe piaciuto avrebbe avuto un opposto che mi sarebbe piaciuto. Una moda che non raggiunge le strade non è moda. Una donna è più vicina ad essere nuda quando è ben vestita. La felicità non è altro che il profumo del nostro animo. La moda è fatta per diventare fuori moda.